Buonasera, Il capo di istituto, reggente nel corrente anno, ha ribadito che si tratta di richieste già trasmesse alla provincia, che ha la competenza per la struttura e di una certa esagerazione da parte dei ragazzi per le altre istanze. Dopo i grandi risultati della vendita del cappellino Il Grande Cuore di Sassuolo, il cui ricavato va alle popolazioni della bassa colpite dall'alluvione, la vendita sarà effettuata anche negli uffici dell'URP di Piazza Gariballi. Ad organizzare l'iniziativa, l'associazione a Sassuolo è sempre festa, 10 euro il prezzo. L'assessore Claudia Severi condanna l'aumento di 10 centesimi del biglietto extraurbano di autobus e treno. La decisione di seta, spiega l'assessore, oltre a risultare odiosa per i pendolari, è paradossale, dato che l'azienda rinuncia giornalmente agli introiti della ferrovia, non avendo adeguato gli obliteratrici, oggi non funzionanti. Chiediamo la sospensione dell'aumento e proposte alternative. Vediamo gli appuntamenti del weekend sassuolese. Domani alle 15 in Sala Biasin, l'AMPI organizza una conferenza sulla Costituzione e le Riforme Possibili. Sempre domani alle 21 il Teatro Carani ospita lo spettacolo a chilometri zero, Cinesesia, il cinema in concerto. Ancora domani, dalle 17.30 alle 19.30, sarà in città Raffaella Fico, testimonial del primo compleanno del negozio Fruscio. Domenica, infine, l'Associazione Artemisia terrà un caffè letterario alle ore 16.30 in Pageria Arte. Passiamo allo sport. Match importante per la San Michelese, che affronterà sul campo il Royal Fiore, fanalino di coda della classifica. Un'occasione per la squadra sassuolese di migliorare il suo attuale quarto posto. Il Sassuolo Calcio si sta preparando per il match di domenica con l'Inter, che all'andata lo aveva visto soccombere pesantemente 7-0 a Reggio Emilia. Oggi per i noroverdi ha parlato Pegolo. Sentiamo le sue parole. È stata una partita poi un po' strana, dove è girato anche tutto, tutto storto, quindi è già stata dimenticata. Vengono da risultati non positivi, quindi giocano in casa e sanno che una vittoria li può riprendere. Quindi sicuramente daranno il 100%. Però d'altra parte anche noi veniamo da risultati che non sono stati positivi e quindi dobbiamo metterci ancora di più per uscire da questa situazione. Il giorno d'andata è stato un po' strano perché le partite che Mari sulla carta, dove erano proibitive, siamo usciti con punti importanti. Quindi speriamo sia di buon aspiccio anche questa volta. Ripeto, noi andiamo lì per fare una partita di sacrificio e compatta. Poi sarà il Campo, come sempre, che parlerà. Per me l'importante di domenica sarà tenere sempre il risultato in bilico. Quindi qualunque cosa succeda non perdere la testa e stare lì e che poi la partita può cambiare in un secondo. Speriamo veramente che sia una bella sorpresa perché effettivamente adesso abbiamo bisogno di punti anche per, soprattutto per la classifica, ma anche per il morale. Io ce l'ho avuto anche ai tempi di Verona, quindi lo conoscevo il mister. C'è una grossa carica, tanta voglia di fare questa impresa e siamo tutti uniti. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a lunedì. Grazie per essere stati con noi.